vi invitiamo a entrare nell'elegante mondo di Gerard D'Anfre accompagnati dal suo creatore molto presto vedrete in Italia questi splendidi oggetti ma già nelle migliori profumerie potete acquistare l'eau de toilette che porta il suo nome Gerard D'Anfre appunto in essa si racchiude tutto lo spirito e la fantasia di questo creatore francese una profumazione virile nobile penetrante